Ti darà il potere della seconda occasione. Lo userai per il bene superiore. Una volta sconfitto il super cattivo, mi restituirai il Miraculous. Posso amarti e posso fidarmi? Certo, Ladybug. Fantastico! Saluti! Il mio nome è Sass e sarò il tuo Kwami. Ma che cosa devo fare? L'unica cosa che dovrai fare è dire Sass, squame striscianti. Sass, squame striscianti. Sass, squame striscianti. Sass, squame striscianti. Sass e usciream. Sass, squame striscianti.